E' un breve notte e giorno, non signori, che tutti i figli tuoi hanno a tornare. Lo sanno che così malate i cori, lo sanno che così non puoi campare. E' un breve notte e giorno, non signori, che tutti i figli tuoi hanno a tornare. Fa fortuna che la cammina o te, e tu lo stassi in tassi qua a procura. Calabria mia, Calabria mia, casa mia o buona. Adesso conosciamo ancora altri amici calabresi che vivono, che risiedono qui in Canada. Ci diamo del tu? Certo. Tu come stai? Allora, tu chi sei? E' su Tony Marchese. Tony Marchese? Ah, chi è? Di dove? San Nicola da Cristo. San Nicola mio, di San Nicola da Cristo. Eh sì, certo. Noi non stiamo intervistando nessuno di San Nicola, proprio nessuno. So che siete oltre 3 o 4 mila di San Nicola, là, infatti il tuo paese è rimasto vacante, pure là. Eh, 1.500 dicono. Ah, 2.000 persone, sì, ci sono. 1.000, 1.200 persone a San Nicola, quindi perché siete tutti in Canada. Tu, quando sei partito? L'63, quindi sono 44 anni, mi pare. Da solo? No, no, con tutta la famiglia. Sposato già lì? No, 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 per carità, 14 anni. Ah, quindi avevi 14 anni quando sei partito? Eh. Quindi non eri sposato? Eh, e poi la signora è tua moglie? Sì, sì. Non crediamo che se non ne sente. Eh, lei di dov'è? Figlia dei compaesani. Pure di San Nicola? No, è nata qui, a Toronto. È nata qui, a Toronto? Vi siete fidanzati qua, a Toronto? Certo, sì. Chi è stato che ha fatto la prima mossa? Non te lo deco. Non te lo deco? Perché non te lo deco? Secondo me sei stato tu? Non te lo deco. No. A mondo vieni. Non mi guardare. No, no, mi gira l'altra parte, mi gira l'altra parte. Vabbè, a parte gli scherzi, a parte il fatto come vi siete conosciuti, che sono fatti di voce. Oddio, se volete dire, a tutta Calabria e parte della Sicilia, noi siamo qua. Comunque tu sei partito nel lontano 1963. 1963. Che diciamo che era il vero e proprio periodo dell'emigrazione. Quindi quando sei partito avevi 14 anni e non lavoravi, perché a 14 anni non si lavora, almeno che non avvii cominciato a gira a denumascio, a tempare ancora una cosa. Si provava, ma non ho niente di concreto. E raccontami un po' quando sei venuto qua, invece, sei venuto con la nave? Si. Quanti giorni viaggio con la nave? Nove. Nove giorni? Si, si, con la vulcana. Con la vulcana, ma i stendini ti senti a salire su? A me no, ma a mamma si. Si? Perché hai partito da tua madre insieme a te? Si, si, eravamo insieme, mamma e cinque figli. Il papà era già qua dal 57. Quindi tuo padre è qua, tu altri quattro fratelli o sorelle? Due sorelle e due fratelli, sì. E tua madre siete partiti per venire qua. Perché il papà vi voleva qua? Perché è stata una decisione familiare. Il papà è emigrato nel 57, è ritornato nel 60 e hanno deciso che tutta la famiglia deve essere insieme e si è pensato di emigrare. Quindi siamo emigrati.